Adesso invece, per eseguire questa canzone che è la gioia del nostro guitarista, dobbiamo chiamare sul palco un aiutino, un ospite. Vai Jackie! Vieni, vieni. Vai, vai Jackie! Perché siccome ho fumato una pipetta di crack prima e non sono potuto andare a Sanremo, mi sono dimenticato il suo nome. Un bel applauso a Stefano, che vedrete dopo il nostro concerto esibirsi con i Chakra, che ci hanno ospitato in questa serata, grazie. Grazie ai Chakra, grazie a Roger. La canzone, per la gioia sempre del nostro guitarista, è Rising For Us. Grazie a tutti. Grazie ai Chakra, grazie ai Chakra, grazie ai Chakra, grazie a tutti. Grazie ai Chakra, grazie ai Chakra, grazie a tutti. Grazie ai Chakra, grazie ai Chakra, grazie a tutti. Grazie ai Chakra, 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 grazie ai Chakra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.